GF e G-Chanil è diventata GF Machining Solutions per darti più tecnologia, più opportunità, più partnership. Il nostro gruppo è leader nel mondo, ma siamo i più vicini alle imprese italiane. Le nostre soluzioni hanno avuto successo in migliaia di aziende, ma siamo i più aperti a trovare insieme l'idea che funziona meglio. La nostra lingua, quella dell'eccellenza, è universale, ma siamo i più capaci a tradurla nelle parole giuste per la tua attività. Entra nel nostro mondo, il mondo del PIP. Le sinergie che nascono dall'unificazione del gruppo GF producono già oggi e ancora più domani un portfoglio ricco di tecnologia. Chiedici soluzioni, servizi, competenze di applicazione e di processo. Le abbiamo. E la porta della nostra competenza è sempre aperta. Nel nuovo centro puoi vedere le macchine al lavoro, parlare con i tecnici e avere informazioni. Tutto qui, nella nostra sede. Ogni nostro impianto ti dà due cose. Qualità che lascia il segno e lunga vita per il tuo business. Con soluzioni che uniscono innovazione e affidabilità, performance e precisione, versatilità e sicurezza. Perché la sola cosa che conta è farti raggiungere e mantenere la massima produttività. Essere leader non ci basta. Vogliamo essere il riferimento di eccellenza nella lavorazione di precisione e metterla a tua disposizione. Il tuo successo è il nostro, una regola semplice che rispettiamo sempre. Prima di proporre una soluzione, ti ascoltiamo con attenzione e analizziamo a fondo la tua azienda. Capirsi è facile, siamo italiani come te. Conosciamo bene il mercato e parliamo la stessa lingua che parli tu. Quella dell'impegno, della serietà, della passione per il lavoro. Il supporto che ti diamo è veloce, concreto, preciso e affidabile. Grazie a loro, quelli che ti ascoltano, ti seguono e si attivano per soddisfare bene e in fretta le tue richieste. Questa è GF Machining Solutions. Solo con noi ottieni di più. Grazie a tutti.